Buonasera a tutti e benvenuti. Ma che brutto spettacolo il conflitto, conflitto, guerra civile, civil war elettorale fra Trump e Biden in questo momento che così imperversa ancora negli Stati Uniti. Che brutto spettacolo, ma ne avevo parlato in una mia precedente puntata dove annunciavo profeticamente, fortunatamente e sfortunatamente per chi così al tempo sentiva queste parole, perché andremo al riconteggio dei voti. Stiamo andando al riconteggio dei voti. Ci sono denunce di brogli, ci sono schiere di avvocati che si sguinzagliano. Negli Stati ancora in critico bilancio fra una parte e l'altra, durante lo spoglio di quelle che sono le schede elettorali pervenute per posta, ci sono anche tweet e Facebook che intervengono nel censurare o meno messaggi dell'uno dell'altro aspirante candidato Presidente degli Stati Uniti. Ci sono dichiarazioni di vittoria, anche premature in un certo senso, che poi magari si vanno a consolidare e qui mi viene un po' in mente il giochetto nell'anno 2000 Gore Bush dove già iniziavano le dichiarazioni di vittoria, dove già Fox News che ancora una volta ci mette lo zampino schierandosi un po' da una parte o dall'altra, dava per certo addirittura una votazione in uno Stato, nell'Ohio, nel Wisconsin, nella Pennsylvania, prima ancora che lo spoglio effettivo dei voti fosse stato effettuato e tutta una serie di dichiarazioni adesso paciose da parte di Sleeping Joe Biden sul sarò il Presidente di tutti, aiuterò tutti quelli che comunque hanno votato o non votato per me, fu ribondo il tycoon Presidente attuale Donald Trump nel denunciare, ribadisco, brogli elettorali e riconteggio dei voti in uno scenario che dovrebbe rappresentare per noi venuti dopo, per noi ignoranti di democrazia, anche se diciamo abbiamo una storia forse un po' più datata e di maggior spessore se vogliamo e qualità anche giuridica rispetto agli Stati Uniti, ma l'esempio mondiale della democrazia sono loro. Ebbene questo esempio mondiale della democrazia sta offrendo davvero uno spettacolo squallido, vinca Biden, vinca Trump, offre sicuramente un'America, vedete anche voi la cartina degli Stati Uniti con il rosso repubblicano, il blu democratico, questa onda blu che avrebbe dovuto avvolgere tutti gli Stati Uniti che non c'è stata, questo scarto di voti fra l'uno e l'altro prima di essere proclamato Presidente e una intera nazione colorata in rosso e in blu che sta a significare una divisione totale anche di consensi e anche di volontà. A questo si aggiunge, dicevo, il voto elettorale che non mi convince, ecco adesso non è per non essere democratico o essere repubblicano, sono d'accordo personalmente sul riconteggio di voti per posta perché quando si invia qualcosa per posta non sappiamo mai al 100% quale possa essere la destinazione perché quando si parla magari di discariche, di voti buttati o si parla comunque di possibilità di broglio, il broglio magari può non esserci ma il dubbio può sicuramente venire, quindi il riconteggio dei voti sarà, e lo hanno annunciato entrambi e nessuno dei Presidenti americani può opporsi al riconteggio dei voti, questo è dimostrato, però inevitabilmente sarà fonte di perdita di tempo, di ulteriore tensione e sentore di, come dire, non voglio dire disordini, ma le tensioni, l'attesa, l'essere snervati crea poi anche disordini in una città, in uno Stato, in Stati e in una grande nazione dove comunque le persone girano ancora armate, fucili, a pompa, pistole, mitra, mitragliette e quanto altro. Davvero un brutto spettacolo, vedremo poi cosa farà la Corte Suprema, lo abbiamo anche già spiegato, sei giudici su tre sono repubblicani e da qui si potrà dire ecco però la Corte Suprema magari darà ragione a Trump o meno, lo vedremo, unica immagine simpatica, ecco è una sciocchezza ma ve la lancio perché l'ho vista in fotografia, la foto di Trump e della moglie che stanno votando sul desk elettorale, la moglie alla sinistra del Presidente vota, sta scegliendo, il Presidente anche lui in realtà sta votando ma butta la faccia quasi e sta guardando, sta sbirciando se la moglie in quel momento così fosse intenta a scegliere e a dare il voto al marito o magari anche al Partito Democratico, unico fatto risibile. Per il resto aspettiamo gli eventi e il risultato finale, grazie.